Just like a spy through smoke and light I escape through the back door of the world Gli Spritz for Five ce l'hanno fatta La band triestina è stata selezionata dallo show canoro di Sky X-Factor Nonostante abbiano cambiato in corso un componente Si sono giudicati un posto nella trasmissione Saranno guidati proprio dal giudice più titolato, Morgan Che si è già sbilanciato dicendo che li porterà in finale Ma non dimentichiamoci delle babè Che seppur sono state inizialmente eliminate Hanno la possibilità di essere ripescate successivamente E se queste sono le premesse ne vedremo delle belle Grazie a tutti Grazie a tutti